Tre artisti, tre suggestioni è la mostra ospitata nella Sala d'Onore della provincia di Arezzo. Protagonisti Valentino Bruschi, Cinzia Gragnoli e Katia Tucci del Cenacolo degli Artisti Aretini. Fil rouge dell'esposizione Il Mondo che ci circonda, natura in testa, raccontato dalle diverse sensibilità dei tre artisti. Queste nostre opere sono in modo diverso, visto da noi artisti, la rappresentazione della natura. Soprattutto con i colori esprimo la voglia, la bellezza, la gioia della natura e di vivere possibilmente cose gioiose. Una trentina le opere esposte sino al prossimo 23 giugno.